La situazione è abbastanza anomala, nel senso che stamattina ho trovato un signore del posto che mi ha detto che non ricorda a sua memoria la lagata via Balbi, per cui è un evento molto raro. Riva quasi come Venezia. È stato il mare e non la pioggia, entrando di forza attraverso la foce del torrente Petronio e risalendo dalle condutture di scarico delle acque bianche ad allagare boxe scantinati dei palazzi che si trovano a ridosso delle due sponde. I disagi sono stati tanti. Si sono allagati gli scantinati alla strada di via Balbi, via Monsignor Vattuoni, via Palermo. Adesso abbiamo due immobili, due fabbricati senza gas, sono state disattivate le utenze. Avranno problemi di riscaldamento, purtroppo il problema è un po' questo qua. Nel corso del pomeriggio la forza del mare è diminuita e lentamente l'acqua ha potuto defluire anche se il livello del torrente Petronio è rimasto comunque alto. Sul posto, per tutta la durata dell'emergenza, hanno operato i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, la Croce Rossa e gli uomini della Polizia Municipale. In serata era ancora chiusa via Monsignor Vattuoni, dove per sicurezza è stata anche interrotta la fornitura di gas a due appartamenti, mentre con le pompe si stava cercando di far defluire l'acqua nelle zone ancora allagate. Nel resto del territorio comunale la situazione è rimasta monitorata, con qualche disagio, anche lungo la strada che conduce al porto. La strada del porto l'abbiamo chiusa, abbiamo chiuso la passeggiata mare e il parco di Sant'Anna che era allagato. Sulla strada del porto avevamo la passerella con delle tavole di velte, la passerella in legno, ma la situazione è rientrata lì. E tra i tanti problemi anche una buona notizia. Nonostante l'intensità della mareggiata, la viabilità all'imbucco delle gallerie di Sant'Anna non è mai stata interrotta, cosa che invece avveniva regolarmente in passato. segno che il rinforzo della scogliera di protezione, concluso nei mesi scorsi, ha superato la prova. Assolutamente, la galleria di Sant'Anna questa volta hanno retto, siamo stati parecchie volte a fare un sopraluogo con i vigili, è rimasta veramente una situazione nella normalità, diciamo. Secondo me hanno risolto il problema grosso di Sant'Anna.